Ragazzi, non dico niente, è una cosa incredibile. Non vi dico la posizione, perché no, ma vi dico, mettete il codice player D, lasciate un like o un commento, questa qua sarà una run leggendaria. Dobbiamo fare il possibile. La classifica, forse dopo questa partita, dipende come finisce, ve la faccio vedere, ma è una cosa al limite. Siamo io e un sudamericano, creator abbastanza famoso, che dopo vi farò vedere. E niente, ci vediamo in game. La comp è tosta. Vediamo un po'. Non so se posso... Proviamo subito il gadget. Ragazzi, la tattica è rimasta più o meno sempre quella. Ok, ho preso la kill. Ho il varco. Me l'ha fatto anche... Sorge il varco, ok. Vediamo un po'. Riproviamo subito aggressivi, c'ho Sorge davanti, vediamo se l'ho trito. Anzi, c'è Pocho. Un colpo talmente lento che non riesco a ammazzare Pocho con la cura. Ok. Mi ho fatto la combo con... Con il colpo ulti. Penso sia la sequenza migliore. Poi se si mettono a... No! Il Pocho non è andato giù. Però Pandi, bellissime le mine. E si gode. Mamma mia. Vi dico che comunque, ragazzi, il push è difficilissimo. Questa mappa non è assolutamente adatta a questo brawler. Vi faccio vedere quello che vi dicevo nella intro. Guardate un attimo. Guardate che roba. Non dico altro. Ok, questo ho buttato giù. Guarda che cazzo di combo abbiamo trovato. Ok. Guardate che... Provo di nuovo ad andare subito veloce su di loro. Ok, il Byron l'ho tolto almeno. Non hanno le cure. E' già questa per noi una cosa buonissima. Mi stanno facendo ricaricarla ulti. Non so se... Solo con Byron lo sa. Ok. Bello che gli ha fatto l'assist. Dimmi che goal è questo? Bellissimo! Mamma mia. Allora, un'altra comp incredibile. Ma come vedete i match sono tutti incasinati all'estremo. Non mi posso. Ok. Charlie sono riuscito a prenderle. Vai. Bello. Ok. Provo subito ad essere aggressivo. Vediamo un po' se riesco a prendere Charlie. Se mi va di fortuna. Si sono allineati. Godo. Trovo ad essere aggressivo. Beh, bene, bene. Mamma mia. 36 secondi contro questi. È una cosa impossibile. Delle comp, ragazzi, assurde. Veramente molto difficili da matchare con questo brawler. Provo a puntare il mid questa volta. Cambio strategia. Perché Bonnie è un po' troppo grossa. Ecco. Ci proviamo. E si gode. Ok. Era preventibile il passaggio. Per fortuna non l'ha capito. Anche perché io non sarei mai entrata. No. Non riesco a effettarlo. Ok. Mamma mia. Non si sa che cosa sia successo. Ma va benissimo. 9.85. Io provo subito aggressivo per caricarmela volte. Adesso tutti one shot. E nessuno è andato giù. La palla, la palla, la palla, la palla, la palla. A me, a me, a me. Subito aggressivi. Si prova sul mid. Ok. Preso. Godo. Godo, Godo, Godo. Ci siamo. È l'ultima partita. Vi dico, nel mentre è successo di tutto. Una roba veramente difficile. Vi dico già. Primi al mondo non ci siamo. È arrivato un altro ragazzo prima di noi. Questo content creator nucleo che salutiamo dal Sud America. Dall'altra parte del mondo, ragazzi, là è mattina presto. A quanto pare ha beccato comunque partite oggettivamente un pochino semplici. L'abbiamo seguita anche in live. Ci ha salutato. Però ovviamente tanto di cappella a lui. Complimenti. Noi, ragazzi, adesso proviamo a arrivare secondi. Siamo lì ad un passo. Proprio un pelo ad arrivare secondi. Ci abbiamo una cinquantina di coppie al secondo. Se vinciamo questa siamo a posto. Come vedete lo scorre qua sotto. Qualche sconfitta. Calcolate che le sconfitte in realtà dovrebbero essere nove e non dieci. Perché una, avete visto, si è buggata la Pro Board e ce l'ha data già dalle 7.50 forse era buggata. Però comunque calcolate che sono nove. E niente, ragazzi, ci proviamo. Le mappe che sono uscite per oggi non sono assolutamente adatti a questo brawler. È stato veramente, veramente difficile. E il 35 devo un attimo trovargli la sua dimensione. Ma è una proposta. Ragazzi, questi sono random, eh. Madonna. Meno male che sono random. Vediamo un po'. Cosa riusciamo a combinare. Come sempre super aggressivi. Ho trovato a indebolirli il più possibile, ma... Veramente difficile. Anche Angela ha un sacco di vita. Dobbiamo provare ad avvicinarmi. Ok. L'ha buttata. L'ho buttata anche la mia. Ottimo. E... Oddio! Con lo scudo. Mamma mia. Ok, sono riuscito a indebolirlo. Gli ho fatto... Gli ho fatto colpo ulti. Eh, però quello con Melody. Sì. Si è fatto tutto il campo. Proviamo. Non sono riuscito a ammazzare nemmeno Angela. Sto facendo ricaricare la ult al buzz. Ma... Eh... Dovevo provarci. Eh, è veramente difficile. L'intrazione non sta andando... Ma... 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 Oddio, mamma mia Grazie quest'ultima partita Mamma mia Ok Mamma mia Abbiamo finito Ragazzi Che Difficoltà Eccoci qua Rank 30 Mamma mia Allora Vediamo un po' il risultato ragazzi Primo in Italia E come vedete Secondo al mondo Ci facciamo lo screen Sia qua che qua Peccato non aver preso la prima posizione Ma avete visto le nostre partite erano oggettivamente troppo difficili Abbiamo fatto il massimo E niente ragazzi Io vi chiedo un like Un commento con quello che vi pare Un pezzettino d'Italia E' arrivata seconda al mondo Grazie ragazzi Al prossimo video Ciao 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 Ciao